Senta, invece sul versante amministrativo Bertolaso sembra orientato a mollare dopo le ultime dichiarazioni, nuovo vertice a Palazzo Grazioli, a questo punto? Non ho più tempo di occuparmi di Bertolaso, stamattina parlavo con i rappresentanti di alcuni comitati di quartiere di Roma, a questo punto noi andiamo al ballottaggio come Lega con la Meloni. Chi vuole si aggiunga, però non abbiamo più tempo da perdere dietro alle bizzarrie di gente come questa.